Allora, come ogni giorno, rieccoci qua, canale 2 c'è dopo il Tg, trasmissione che va in onda subito dopo la rubrica di Emanuele Giordano, seguitissima trasmissione dal titolo Chichirichi, che va in onda a sua volta anche dopo il nostro telegiornale, quello delle 13.30 e delle 14.00 circa. Siamo qui come ogni giorno da diversi anni a condurre questa trasmissione, ogni giorno un ospite diverso e come in tutte le emittenti televisive che si rispettino, anche noi abbiamo gli inviati speciali. Siamo un'emittente televisiva che è seria, spero che la pensiate come me, insomma abbastanza seria, paghiamo tutti coloro i quali lavorano in questa televisione, però per lui credo che soldi purtroppo non ne abbiamo, ti devi accontentare Patrizio, o lavori non lo so, dobbiamo trovare un sistema, non abbiamo soldi da destinare per questa mansione. Comunque il nostro inviato speciale Patrizio Girondi, come stai? Bene, bene, benissimo, grazie. Inviato speciale perché, come sapete, l'abbiamo presentato anche qualche giorno fa, Felice Griesi l'ho avuto come ospite nella nostra trasmissione, vive più in America che in Italia o viceversa? Più negli States? Sai che cosa? Ricevo sempre queste domande, però posso dirti questo. La vigilia di Natale, a casa mia, valeva tutto l'anno scorso. Non è per me tanto se sono più giorni qua o là, per i momenti speciali, importanti, e io posso fidare che i momenti più particolari, più speciali, più importanti, passano ad Altamura. Beh, certo, anche perché la famiglia credo che tu ce l'abbia qui, ormai le tue origini sono queste, Altamura e dove... Va bene, ma gli origini miei sono di Modugno, i miei nonni venivano di Modugno. Ah, dall'estero, insomma, venivi dall'estero. Sì, io sono dei stati, io ormai nato e cresciuto a Chicago, con i siciliani calabresi più che altro, la verità, comunque i miei nonni materni, e io ho il nome di mia madre, cognome, vengono da Modugno. Ah, ho capito. Altamura è adottivo, diciamo. Quindi vi siete trasferiti qui in seguito a quale motivazione all'epoca? Va bene, si può dire che la famiglia dei miei figli sono altamurani, Caputo, negozi, ho capito, quindi per questo motivo... Sì, sì, rosa, azzurro, tutti ormai siamo una grande famiglia. Va bene, non fa niente, non fa niente. Allora, Patrizio, Pat, per gli amici, cantante, si occupa di sociale, è molto conosciuto in città, chi lo conosce sa che cosa fa Pat nella vita, si occupa di tante cose, di musica, ma non solo, di economia, di una serie di cose interessanti, importanti. Sei un artista al 100%, no? Allora, secondo me siamo 7 miliardi e mezzo di artisti sulla pianeta, io sono uno dei pessimi artisti sicuramente, però mi impegno su tante di quelle cose, perché ho iniziato la vita a pulire le scarpe a Chicago, non ho mai finito liceo, però coincidenze importanti, sia quelle che è successo in Svizzera, sia che è successo in Germania, sia quel che è successo in India, sia quel che è successo in America e in Italia, ormai si è spinto verso tante diverse cose. Una cosa che è stata molto importante per me, che a 13 anni mia madre non ce la faceva più, lei parlava con un prete, padre Carlo. Padre Carlo insegnava la musica al seminario, e ormai ero già da 13 anni arrestato, non lo so, una decina di volte, per le cose furti, cose di ragazzi, almeno al borgo nostro cose di ragazzi. Comunque mia madre piangeva, pregava, come nella Bibbia, la vecchia che chiedeva per il re. E secondo me padre Carlo, che veniva della messa ogni domenica, si stancava di sentire mia madre, diceva, signora, va bene, accetteremo il tuo figlio in seminario. Allora per un anno e mezzo io ho vissuto con 62 preti e frate francescani. Eravamo 83 studenti. Dove? Fuori Chicago, una cinquantina di chilometri fuori Chicago, però dormivo là ogni mattina alle sei a piedi, la messa alle sei e mezzo, eccetera. Abbiamo studiato varie religioni con padre Alberto, che era molto in gamba, però forse la cosa che rimane molto per me è stata sempre la preghiera di San Francesco, che è un pilastro della vita mia e provo di farlo pure dei miei tre figli e dei miei amici, che dice, signore, aiutami ad aiutare le persone che posso e le situazioni che posso, però darmi la saggezza di capire che ci sono certe cose che non posso fare niente. E allora è stato un pilastro per me. Quindi ci sono dei limiti, che ci sono dei limiti che non posso... Bravo, possiamo parlare di tante di quelle cose, questi giorni tutti stanno parlando di Marchione, di Trump, Marchione che ha fatto un grande errore, secondo me, Marchione e la posizione... Della Fiat, per capirci, dei marchi automobilistici. Sì, gli Stati Uniti purtroppo sta facendo un tipo di estorsione, sia la Fiat, sia la Volkswagen, sia la Daimler, e stanno dicendo voi dovete darci miliardi, miliardi, miliardi perché avete truffato le cose. Stranamente non stanno chiedendo i Ford, i General Motors, eccetera. Però questo è che purtroppo, alla fine del conto... Cioè stanno applicando, così la gente capisce, stanno applicando delle sanzioni. Bravo, bravo. Vuole applicare delle sanzioni. Se qualcuno chiama estorsione... Però alla fine del conto Marchione doveva dire... Voi siete venuti a noi nel 2008, quando la Chrysler stava fallendo, che aveva un miliardo e trecento milioni di debiti, la Fiat entrava, assumava i debiti, abbiamo salvato sessantamila posti di lavoro negli Stati Uniti, questo non è i compensi? Questo dovrebbe essere, non che Marchione devi attaccare la Germania dicendo ma la Germania ha fatto peggio di noi, ma che cos'è questo? Quindi tu dici un colpo di mano di Trump che non doveva fare. Va bene, dico alla fine del conto, è stata l'amministrazione di Obama che sta facendo questo, Trump sarà secondo me ancora più pesante, francamente è già annunciato ieri a Merkel che ormai il socialismo tedesco deve smettere, perché negli Stati Uniti non abbiamo la sanità, non abbiamo l'università, infatti le famiglie americane, il 69% non possono pagare per andare a un pronto soccorso senza vendere una cosa o senza prestare soldi, allora veramente in paragone agli italiani, gli americani sono poverissimi, quella è media e purtroppo negli Stati Uniti abbiamo avuto tante di quelle date brutte quest'anno, hanno sparato 146 polizie, 73 morti, a Chicago soltanto abbiamo avuto 762 omicidi, i polizi hanno sparato quest'anno stimato 54 mila civile, questi sono i segni di un paese che ormai funziona, bravo, allora però gli americani non sono stupidi, se il popolo americano mai capisce che l'Europa funziona, che la sanità funziona, che le scuole funzionino, io posso dire, perché ho vissuto in tutti i due posti, ho vissuto in Svizzera, ho vissuto in Germania e tante volte perdo la pazienza pure la gente che lamenta la neve del sindaco, di tutte queste cose che non veramente capiscono come bene stanno e se tu non apprezzi quello che hai, sai che succede? Lo perdi e Trump e l'America vuol essere sicuro che l'Europa perde e che si viene divisa e viene distrutto, perché per l'America è scomodo. È scomodo che ci sia questo termine di paragone, vuoi dire, cioè che l'America veda a noi come a un popolo che sta meglio. Sì, è un tipo di, ormai è successo nel 2008, quando il crack dell'America è creato dalle banche americane, no? Alla fine dei conti, perché hanno venduto tutti questi mutui di cassa in America che non valgono niente, tu puoi andare in Zillow adesso e trovare cassa in Chicago, tu vedi la foto, sembra una cassa normale, 9 mila dollari, 10 mila dollari. E loro vendevano tutte queste mutui alle banche in Cina, alle banche in Europa, eccetera, eccetera. E questi ingenui nostri bancari pure, perché era americano, allora è tutto buono. Invece non valevano niente, è creato questo crack che poi è fallito la Lehman Brothers. Ma ancora abbiamo le ramificazioni di queste cose con la banca di Siena, eccetera, eccetera. Comunque abbiamo adesso nel mondo la guerra economica. Quella dell'Europa, socialismo, che è socialismo, e quella dell'America che dice no. Il paese deve essere comandato di 8 persone, 10 persone, tutti gli altri devono essere poveri. Infatti, i dati sono venuti ieri, 8 uomini, 8 uomini valgono più di 3,6 miliardi di persone. 7 di questi 8 uomini sono americani, 1 è messicano. Però questi dati sono pericolossissimi per tutti. Allora invece degli 8 uomini dicono va bene, non funziona questo sistema, che dobbiamo fare? Pure se abbiamo bis, 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 non possono mai consumare i beni che abbiamo, dobbiamo vedere, bilanciare le cose. No, loro dicono no, 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 dobbiamo proteggere quel sistema che fa tanti poveri e pochi ricchi. In Europa, per esempio, è diverso, perché noi abbiamo i capi della Fiat, i capi del Volkswagen, eccetera, eccetera, che loro fanno da 20 a 30 volte più del stipendio dell'impiegato. In America sono 380 volte di più. Allora in America abbiamo questo piramido che è un po' così, magari in Europa è così, negli Stati Uniti è così. C'è una differenza maggiore tra chi sta male e chi sta bene. Sì, ormai c'è un abisso, è un abisso. In Italia forse siamo più vicini. In Italia 81% delle persone hanno la cassa e soltanto il 17% hanno il mutuo. Ma è un paese ricchissimo, per gli americani, ma tutti già abbiamo un mutuo, eppure sulle mutande. Dico, e queste... Ci sono le banche che fanno da padrone in America, questo è... Va bene, i banchi, famiglie ricche, eccetera, eccetera, pure come qua, francamente, sta diventando sempre così. Però il messaggio, se c'è un messaggio, perché ho scritto un'lista, Aglio, Trump, Jackass, emigranti, clienti aliati, Navy, venerdì a New York, ho scritto di parlare di tante di queste cose. Una scaletta, una specie di scaletta da puntare oggi, di trasmissione. Ormai, oggi come oggi, il tedesco deve diventare più tedesco, italiano più italiano, francese più francese, portoghese, eccetera, però più europei, e dovete iniziare a apprezzare, e dovete essere pure disposti a fare sacrifici senza piangere per il vostro paese. Come ha detto John F. Kennedy. Dobbiamo conservare e difendere le nostre origini, le nostre amici. Bravo, non è bravo, sia, e poi non voglio sfottere... Anche il nostro sistema politico dobbiamo... Il nostro sistema politico, il nostro sistema del film, della musica, della cucina, di ogni cosa, perché per esempio in America adesso vai nel supermercato, prendi biscotti, dolce vita, gli americani sono tutti convinti, sono italiani, gira, fatto in Wisconsin, e queste cose stanno distruggendo pure l'esporto italiano. Non si capisce più quale prodotto italiano è vero. Allora, dovete capire che è guerra aperta, guerra economica, e non tramite americani e europei, no, perché negli Stati Uniti pure il grande maggioranza delle persone non vogliono questo sistema di pochi ricchi e tanti poveri. Però dobbiamo veramente lottare il sistema e gli uomini di quel sistema. Ma in America non ci sono leggi, negli States ovviamente, non ci sono leggi che tutelano la tracciabilità, l'origine del prodotto, non c'è niente che possa tutelare, cioè uno va lì al supermercato, compra una cosa che non è quella e nessuno lo tutela. Si può dire questo, che le leggi sono fatte dai politici. I politici negli Stati Uniti, particolarmente per essere eletti, pure il politico più basso deve avere due o tre cento mila dollari per fare la campagna, il Presidente un mezzo miliardo. Allora, quei soldi da dove vieni? Dalle grandi aziende. Allora, quando un politico fa la legge, Dalle sponsorizzazioni. Ormai, lui lo fa, infatti io ho detto tante volte, che negli Stati Uniti quel che dobbiamo fare è tutti i nostri senatori e il congresso, quando fanno riunione alla televisione, devono sulla giacca, come i giocatori di pallone, devono avere qua General Motors, devono avere qua il comitato dei ebrei, devono avere tutti quelli che hanno dato i soldi, così noi, quando lo votiamo, capiamo. Sappiamo chi c'è dietro. Però, ritornando alle auto, no? A quello che vorrebbe fare Trump. Poi non sono esperto esperto, per l'amore di Dio. Leggo tanto e scusami le miglioranze su tante cose. Ecco, quindi tu dici che in Italia dovremmo utilizzare più auto italiane o europee. Quale potrebbe essere il segreto, la contromossa? Allora, sarà bello. No, no, sarà bello se stava una bacchetta, no? Per l'amore di Dio. Io dico questo, se ogni uomo farà più uomo, ogni donna farà più donna, cautolisce prima la sua famiglia, poi i vicini di cassa, poi il bar all'angolo che fa il panettone, poi il fabbro che fa eccetera eccetera. Diciamo, dobbiamo essere... Cioè, bisogna conservare, tutelare... Sì, io sempre parlo di un mio presidente, Onofrio Pepe, io dico l'unico presidente. Uno a caso, uno a caso. Bravo, bravo. Onofrio fa molto bene, secondo me, e trasporta l'Italia un po' dappertutto nel mondo, eppure Altamura. E noi, ognuno di voi, dovete diventare un po' più Altamura. Sia nella musica, sia nel film, sia nel come mangiate. Smettete di ammirare il verde, l'erba non è sempre più verde dall'altra parte. E adesso posso dirvi che se dovevo chiedere o domandare, se qualcuno, scusami, domandava, dice Patrizio, ma paradiso sulla pianeta? Non esiste. Ma per arrivare più vicino, dove andremo? Io e tanti ospiti che ho avuto negli anni, particolarmente negli Stati Uniti, dicono tutti l'Italia. Il paese del cibo, il paese della famiglia. Come un paradiso, insomma. Bravo, bravo. No, se facciamo un paragone. Allora io lo so che adesso ci sono le persone che dicono ma questo è pace, la famiglia non esiste più, l'aglio viene dalla Cina. Oh. Scusate, calma. Non devi perdere la pazienza. Poi specialmente forse state, adesso avete finito a mangiare. La fatta che veramente ancora avete le cose buone. Conservare queste cose. Vosso i figli sono figli di ora. Bravo ragazzi. Viziati. Grazie a voi. Colpa a voi di voi. Colpa vostra. Colpa vostra. Scusate, dobbiamo parlare. Come ho detto, non ho finito il liceo. Perdonami. No, ma ci mancherebbe. Che certo. Però alla fine, fin dei conti, se noi compriamo tutti i prodotti di Francia per dire una parola. Come devono lavorare gli italiani? Sono concetti così. Io non voglio dire di comprare ogni cosa. Non dobbiamo lamentarci se non c'è il posto di lavoro. Dobbiamo essere più italiani. Adesso abbiamo passato un po' di neve qua. Io rido, neve, perché voi fate neve. A Chicago abbiamo 5-6 mesi così ogni anno. Io ho visto nel Facebook che la gente lamentava, noi sindaco. Oh, ma non è il sindaco, il colpo del sindaco. Negli Stati Uniti, quando c'è la neve, ogni casa deve pulire e spalancare di fronte a casa sua. Se no, c'è la multa di 600 euro a Chicago. Allora, io dicevo, ma che colpo c'è un sindaco? Scusate, se avete un negozio, esci e pulisci bene bene. E basta. Nel corso ogni commerciante prende e mette un filo al centro della neve. Così creiamo, possono camminare avanti, a destra e ritornando a sinistra. E non provochiamo tutti i danni che abbiamo fatto pure purtroppo con le palle, le cose. Vedi, tanti pietre sono spaccati. E adesso, in estate, che succede? Il sindaco deve scrivere un assegno per 80.000 euro per aggiustare. Ma chi paga? Nel corso qualche dato. Brava, chi paga? E lo stesso, per esempio, la Fiat. Alla fine dei conti, se l'America avrà questi 4 miliardi, ma ti rendi conto, miliardi, che succede? Marchioni andrà al presidente, Gentiloni, non lo so, dice, compare. Io devo pagare. Perché gli americani, forse loro non mandano, per esempio, quando è caduta il FUNAV, tanti anni fa, i piloti americani non sono mai venuti ad essere giustificati qua. Che l'America fa quello che vuole. Perché può. Abbiamo l'esercito più potente del mondo. Quando voi chiedete di mandare Amanda Knox, quando voi chiedete di mandare... Noi ridiamo in bacio, in faccia tua. Voi non rendete conto poi i politici per fare la bella figura. Però alla fine dei conti, stavamo parlando della neve e stavamo parlando di Marchione. I 4 miliardi che lui pagherà l'America, perché loro diranno, bravo, perché lui andrà, il presidente, io devo mandare tanti impiegati, dalla Fiat a casa, se tu non mi aiuto qua. Alla fine pagate voi. E questo è precisamente quello che vuole il sistema americano. Come possiamo andare nelle tasche degli italiani per dargli ai nostri poveri? Quindi è un sistema per arricchire gli States. Salvare. A salvare. Perché, come l'ho detto, purtroppo la classe... Ho letto un articolo l'altro giorno che oggi come oggi l'americano, la famiglia americana, fa uguale come hanno fatto nel 1966. Immagini se gli italiani facevano quello che facevano nel 1966. Perciò io, mi dà fastidio molti italiani, voi lamentano, non vanno a barri, ma come stai? crisi, non sto bene, potevo stare meglio. Nessuno dice che potevo stare peggio. Comunque non ho visto nessuno che non mangia qua. E per l'amore di Dio, loro hanno problemi, ma una grande parte dei problemi italiani è come gestite i soldi. non dirmi che avete problemi, però a Natale spendete 12 euro soltanto per i piatti di plastica e i bicchieri di plastica. I figli vostri, tutti, a 8 anni, tutti telefonino, telefonone, e allora, gestite i soldi vostri in una maniera meglio. Bene, allora, Patrizio, sei stato grande in quello che hai detto perché sono cose che... vere, sappiamo tutti, ma a volte bisogna anche ricordarli questi concetti. Allora, il nostro inviato speciale, intanto ci manderai quando sei lì. Sì, il venerdì sarò avanti il Southern District New York. Ci manderà qualche servizio. Mando il servizio. Qualche servizio sul posto, vediamo un po' che cosa succede. E ricordati a tutti, non voglio offendere nessuno, vi voglio bene, io ormai fra poco non ci sarò più. Eh vabbè, ma noi ci sarò. No, però vabbè, diciamo ormai succedono le cose, ogni volta che ritorno dagli Stati Uniti è morto un altro amico, sembra. Comunque, io vi voglio veramente bene e non voglio offendere nessuno e scusate se ho offeso qualcuno, però siete un grande popolo italiani, tutto il mondo vuole mangiare italiano, vuole vestire italiano, vuole venire qua. Significa che ci vuole no? scusate un po' d'orgoglio. Orgoglio! Va bene, allora grazie a Patrizio Girondi per essere, Pat Girondi, per essere stato qui con noi, avremo sicuramente degli aggiornamenti, ripeto, Canale 2 è abituata a pagare chi lavora per questa emittente, però siamo un po' accorti negli ultimi tempi, quindi dovrai accontentarti. Dovrai accontentarti un po', dobbiamo vedere un po'. Ok, grazie allora Patrizio Girondi, buona giornata a tutti e risentirci domani con Felice Griesi, grazie da Arturo Castoro.